Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Parto subito con uno scusarmi per il mio aspetto, ma non ho voglia di truccarmi stamattina, quindi mi farò promotrice della bellezza naturale e mi farò promotrice anche del mio canale, quindi iscrivetevi al canale, se vi va lasciate un like, lasciate un commento, interagite con me, mi trovate anche su Instagram, sulla pagina ovviamente Notolea Perfum. Grazie tosse, dopodiché anche voi timidini che guardate i miei video senza iscrivervi al canale, iscrivetevi al canale. Bene, dopo la dose giusta di impappinamento e di introduzione partiamo con l'azienda di oggi che è Officina Profumo Santa Maria Novella, quindi torniamo nella città di Firenze e il mio grandissimo amore della città di Firenze e della Toscana. Sono molto legata a questo set perché si tratta di un regalo ricevuto dalla mia amica Federica, ciao Fede, che infatti contiene non soltanto il Discovery Set ma anche un saponcino, insomma, tutto il regalo che lei mi ha inviato per il mio compleanno, quindi risale a qualche mese fa. Questo è il bigliettino personalizzato, quindi se volete usarlo come idea regalo questo può essere un buono spunto. Poi c'è questo fantastico sapone alla mandorla che ha un odore meraviglioso che vorrò usare e che devo usare prima o poi, ma al momento non ho ancora il coraggio di farlo, quindi sta nella scatola. E poi veniamo al Discovery Set, vero e proprio, il Discovery Set che contiene otto acque di colonia appunto di questa azienda. Sotto la scatola è molto interessante perché è riportata anche un po' di storia dell'Officina Profumo Santa Maria Novella. Quello che posso dirvi è che si tratta di un'azienda estremamente antica, tant'è vero che è del 1221. Tant'è vero che questo set è stato, insomma, è uscito per celebrare proprio gli 800 anni di vita di questa antichissima casa. Come sapete nel Medioevo è molto diffuso il concetto di farmacia e in questo caso si tratta proprio di una tipologia di vendita e di produzione di prodotti che unisce e che quindi fa andare molto di pari passo la componente sanitaria, quindi la componente proprio di farmaco, di medicamento con la componente igienica e quindi tutta la parte di sapone, di oli essenziali, di cure erboristiche, di spezieria. Quindi si tratta di attività che oggi sono poi frammentate ma che all'epoca erano tutte unite appunto sotto questa insegna. E ovviamente si tratta di prodotti che si basavano anche proprio sulle conoscenze del tempo, sui costumi del tempo che ancora oggi poi nel caso di Santa Maria Novella vengono ancora tramandate. Nel senso, io ho avuto la fortuna di entrare nella sede di questa meravigliosa azienda, quindi nel loro negozio, che è fatto proprio come una farmacia. A parte che c'è un ingresso meraviglioso con questo tetto di fiori, di glicini che pendono, cioè è veramente stupendo. E poi si entra in questo ambiente che ricorda tantissimo la farmacia, tutti gli effetti, quindi con i banconi di legno scuri, con tutte le boccette esposte, con i vari vasi contenenti magari le spezie, appunto i preparati chimici, è molto molto interessante. E poi c'è proprio un'atmosfera veramente di pace, di calma, di quiete, quindi è un posto nel quale mi riprometto sicuramente di tornare. E perché parlo delle mode del tempo? Perché io sono entrata per comprare un cosmetico a mia sorella che si chiamava polvere per bianchire le carni. La polvere per bianchire le carni sarebbe praticamente una sorta di polvere bianca che serve a fare una sorta di scrub e quindi non soltanto a pulire la pelle ma anche in qualche modo a sbiancarla, che era tra l'altro proprio una moda tipica dell'estetica medievale che non elogiava per niente la pelle abbronzata, perché la pelle abbronzata ovviamente era di coloro che lavoravano nei campi, che stavano all'aria aperta, quindi della parte proprio della classe contadina, dei servi della gleba e tutto il resto, mentre la pelle bianca era la pelle degli aristocratici, di coloro che si proteggevano dal sole. E infatti appunto questo preparato serviva proprio ulteriormente a sbianchire le carni e ancora oggi si chiama così. Quindi è tutto molto interessante questo collegamento tra il passato e il presente, perché fa proprio luce anche proprio sui costumi dell'epoca. Quindi potrei parlare all'infinito di Medioevo, di Firenze del Medioevo e del Rinascimento, quindi la faccio corta, perché siamo già a 5 minuti e i profumi sono 8. Allora si tratta di un set di acqua di colonia, anche se dico la verità io non le ho provate sulla pelle, nel senso che le ho provate soltanto per proprio sentire la fragranza. Quindi non so se la persistenza è quella tipica di un'acqua di colonia, quindi una persistenza non proprio altissima. Fatto sta che sulla carta dove le ho spruzzati, erano lì, sono rimasti lì per tante tante ore, anzi forse anche un paio di giorni. Vabbè ovviamente la resistenza sulla moglietta è diversa, lo sappiamo rispetto a quella sulla pelle, perché non c'è il fattore calore della pelle appunto che fa scaldare le sostanze e le fa evaporare. Fatto sta che però la persistenza così di primo acchitto non mi è sembrata malaccio, anzi. Quindi queste acque di colonia sono alcune tra le tue rappresentative ovviamente dell'azienda, ma esistono anche altri profumi. In questo caso il kit ne contiene otto, ne contiene otto e ne andiamo insomma a parlare insieme. Premesso che io non le ho usate anche perché quelle che più mi interessano, quelle che più mi sono piaciute, sono di carattere per il mio naso più primaverile e quindi non le volevo in qualche modo sprecare per il test, ma volevo proprio indossarle, utilizzarle per l'indosso. Sono del parere che alcune di queste creazioni sono veramente particolari, cioè nel senso non particolari come a dire originali, ma particolari perché mi riescono proprio a mettere nel mood della storia che vogliono raccontare. Allora, non vi nascondo che alcune di loro mi hanno molto molto colpito nel senso proprio che vorrei acquistarle, ma visto che mi ero ripromessa, mi sono ripromessa, intendo portare avanti la promessa di affrontare un periodo lungo senza acquisti, ci voglio pensare bene, salvo rarissime eccezioni, ma questi effettivamente mi sconfinferrano molto. Mi voglio godere le cose che ho, apprezzare le cose che ho, visto che ne ho tante, e quindi insomma prima di lanciarmi un acquisto voglio ben studiarmi le fragranze, però diciamo che così, sulla carta, un paio mi interessano particolarmente. Partiamo con Acqua della Regina, un paio e mezzo, perché questo è il mezzo. Acqua della Regina è un profumo assolutamente godibile, floreale, agrumato. Si tratta proprio di un floreale con al centro la nota del fiore d'arancio. Assomiglia un po' proprio quindi alla classica acqua di Colonia, ed è per questo che è il mezzo, perché il profumo di per sé mi piace tantissimo, ma mi ricorda molto, 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 molto Gentle Woman di Juliette Zagan, che io posseggo. Rorto intorno alla nota di Neroli, e il Neroli è una nota che a me piace veramente tantissimo, però tanto, 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 però questo profumo ovviamente è un profumo che non ha una sua particolarità, cioè non si distacca, non riesco a parlare stamattina, non si distacca particolarmente dalle classiche profumazioni ai fiori d'arancio, quindi mi sembrerebbe un po' una replica, diciamo, acquistare un profumo del genere, però questo è veramente fantastico, e se cercate un profumo ai fiori d'arancio, questo potrebbe essere veramente, veramente valido. Non vi so dire sulla persistenza, perché appunto io non l'ho indossato proprio per mettere, ma l'ho spruzzato così su carta, eccetera, ma dà un'atmosfera così ariosa, così fresca, così luminosa, che veramente proprio richiama la primavera, richiama la solarità, richiama i profumi proprio dei fiori che si trovano nell'aria in primavera, è veramente fantastico. Sono sul sito e vi leggo quindi anche le note, allora il profumo costa 75 euro il 50 ml, 110 euro il 100 ml, quindi non si tratta ovviamente di fragranze low cost, ma ovviamente si tratta di un'azienda comunque reputabile, diciamo, di nicchia, più che altro anche che conserva questa sorta di stampo artigianale, artigianale nel senso proprio di richiamo alla tradizione della profumeria appunto italiana nei suoi albori, e quindi di conseguenza c'è comunque una ricercatezza, c'è comunque una forma di lusso, che in questo caso ovviamente si rispecchia anche nel prezzo. Io comunque ve lo consiglio fortemente questo Discovery Set, perché penso che sia veramente valido e costa 19 euro, quindi effettivamente può valerne la pena, ecco. Allora, le note, agrumi italiani, neroli e pettigren, neroli, rosmarino, chiodi di garofano e lavanda, paciulli e musk. Allora, un piccolo escursus formativo, il pettigren, penso che lo sappiate, comunque è tutta la parte verde dell'agrume, quindi la foglia di agrume, i piccioli, i rametti, motivo per il quale il pettigren è una nota che a me piace personalmente tantissimo, perché ha non soltanto questa connotazione agrumata, ma non è quello agrumato fruttato, quanto quello agrumato verde. Io lo sento tanto il pettigren in questa composizione, perché mi sembra proprio di mettere il naso nell'albero di arancia che ho in giardino. È veramente una rappresentazione molto, molto, molto fedele. Ha proprio un sentore naturale questo profumo, ed è per questo che mi piace veramente tanto. Quindi il pettigren è appunto l'infusione della parte vegetale dell'agrume, quindi della serie non si butta via niente, e il neroli, sempre perché non lo sapesse, è il risultato della distillazione del fiore d'arancio. Questo quindi è uno di quei casi in cui il fiore cambia il nome dopo il processo di lavorazione, perché quindi il fiore neroli non esiste, ma il neroli è il nome che viene attribuito al distillato, all'essenza quindi, del fiore d'arancio. Quindi piccolo momento formativo. Quindi quando leggiamo neroli sappiamo anche qual è stato il processo al quale il fiore è stato sottoposto per l'estrazione delle molecole odorose. Che dire? Il profumo di per sé è molto semplice, è profumo agrumato, profumo floreale, di una freschezza estrema e che nella sua semplicità, diciamo, e nella sua non complessità a me ha fortemente colpito. Andando avanti troviamo Fresia. Fresia è uno dei due profumi che comprerei, ve lo preannuncio, me lo spruzzo di qua, perché si tratta di un profumo veramente... cioè, allora, è l'essenza del pulito. Se dovessi descrivere Fresia, è un pulito non tanto tipo sapone di Marsiglia o pulito tipo saponetta d'Av, ma è il pulito di una saponetta ai fiori. Cioè, questo è proprio l'odore delle saponette ai fiori, quell'odore che potreste sentire entrando nel bagno buono della nonna, dove aveva il saponcino per gli ospiti che non veniva mai utilizzato, perché era lì tipo, insomma, museo. Questo profumo è di un conforto incredibile, però non conforto nel senso di calore, ma conforto nel senso di, proprio di questo sentore floreale. Ci si è proprio avvolti da una nuvola pulita di fiori. Potrebbe sembrare un profumo un po' retro, ed effettivamente è un profumo un po' retro, però per retro intendo appunto il sapone ai fiori che poteva trovarsi nelle nostre case anche già di infanzia. Io ho vissuto l'infanzia all'inizio degli anni 90 e una saponetta del genere poteva tranquillamente esserci in casa, o anche qualche anno prima, cioè proprio sulla toiletta della nonna. È un profumo veramente, non oso dire particolare, però su di me ha suscita una reazione di immediato interesse, perché dà veramente un settore molto molto di pulito e anche di grande eleganza. Cioè questo è un profumo che indosserei, per esempio, anche ad un colloquio di lavoro. La particularità di questo profumo è che parte con questo sentore di pulizia da saponetta, però poi evolve verso un qualcosa di un po' più freddo, è come se successivamente emergesse una nota di pulito ma fredda, cioè leggermente glaciale, però sul fondo. È una cosa abbastanza strana la sensazione che mi suscita. Vi leggo le note, in testa c'è l'accordofresia, nel cuore violetta, assoluta di rosa centifolia e sul fondo iris e mask. Probabilmente il muschio a dare questa nota di pulito che un po' diventa anche un pochino algido, cioè un pulito anche in qualche modo un po' sintetico. E poi si sente anche la parte di iris, ma perché si sente una nota comunque talcata. Però non mi sento di rifinirlo un profumo talcato. Per me è proprio... lo sento e sento anche nel cervello la consistenza della saponetta, quella saponetta color rosa che erano tutte scanalate. Non so se avete presente. Ecco, io vedo questa immagine. È un profumo veramente buono, buono, buono. Non mi sento di dire un profumo da vecchia, perché comunque è un senso di pulizia che potrebbe indossare chiunque. Però diciamo che se dovessi fare un regalo non lo regalerei a una persona under 30. Non mi sentirei di regalarlo a una persona giovanissima, ecco. Andiamo poi su rosa gardenia. Rosa gardenia è una profumazione ovviamente altrettanto floreale, ma in questo caso si tratta, ecco, di un floreale un po' anni 90. In questo caso sì, mi riporta delle immagini anni 90. Quei bagnoschiuma, quelle saponette, quelle creme, anche le creme proprio per la skin care, che avevano queste profumazioni molto intense negli anni 90. Era molto di moda profumare le cose in maniera un po', se vogliamo, chimica. Cioè non ancora in preda a questa rivoluzione naturale, alla rivoluzione del no profumo, anche dei cosmetici, eccetera. Quindi mi ricorda tanto quelle profumazioni floreali dei cosmetici anni 90. Non so se ricordate un po' le linee viso di Brochet, le linee viso di A, le linee corpo di Avon. Avevano un po' questa connotazione floreale, ma bella carica, ai limiti quasi un po' del chimico. Questa è una profumazione che sinceramente non comprerei e che a differenza di Fresia sembra un po' più datata e quindi di conseguenza non la riesco ad associare molto ai nostri anni, al nostro modo di profumarci, nel senso dei bouquet, che sono molto diffusi oggi. Sì, è una declinazione della rosa cosmetica, sicuramente una rosa cosmetica, ma anche appunto un pochino più inserita in un contesto temporale non di modernità. In testa troviamo bergamotto, fior di mandorle e fior d'arancio, in cuore gardenia, rosa gentifoglia, foglia di figo e gelsomino, fondo, sandalo, vaniglia e mask. Io sento molto la rosa, una rosa che appunto è in qualche modo addolcita, una rosa in cui petali sono sicuramente molto maturi, una rosa di colore rosa, ecco, e si sente tanto anche la gardenia, quindi penso che in questo caso è proprio un ottimo titolo che va a supportare la composizione. Ripeto, non è tra quelle che più ho preferito, sicuramente mi piace il fatto che quando la sento faccio in qualche modo un tuffo nella mia infanzia, seppur per immagini diverse rispetto a quelle che vi ho descritto prima, perché questa è effettivamente una profumazione che io associo molto ai cosmetici anni 90. Il quarto profumo del kit, è rosa novella, ecco, rosa novella in questo caso invece è una rosa molto più moderna, una rosa molto più contemporanea, perché è una rosa che viene contornata da delle note tipiche delle composizioni attuali. Innanzitutto, è una rosa in cui io sento moltissimo una parte, diciamo, di spezia, una parte legnosa e sento moltissimo quella spezia tipo pepe, pepe nero, che in questo caso è contenuto in un barattolo di legno. Questa immagine io spesso ricorre nelle mie descrizioni, perché mi sono resa conto che è un mio modo specifico di percepire il paciuli. Il paciuli è una nota che è estremamente versatile in profumeria e che viene sottoposta a tanti tipi di lavorazione differente per ottenere dei risultati differenti. Questo cosa vuol dire che ci sono anche dei processi come ad esempio la terpenazione o ad esempio il frazionamento che sono dei modi di lavorare la materia prima che in qualche modo la vanno a spogliare delle sue componenti potenzialmente meno apprezzabili. Cioè il paciuli ad esempio è una nota vegetale una nota ovviamente legnosa che ha una componente molto terrosa una componente che rimanda molto ad esempio alla terra umida alla terra bagnata molto boschiva molto in qualche modo anche da legno ammuffito come spesso dico il paciuli per me è questo cassettone ammuffito. Bene alcuni processi di lavorazione della materia prima consentono di spogliare la materia prima stessa da queste risultanze un po' più aggressive un po' più respingenti pungenti e quindi ad esempio dal paciuli spesso tramite queste lavorazioni si elimina proprio questa componente tipica terrosa che è abbastanza facile che possa non piacere. Quando il paciuli viene sottoposto a questa operazione spesso assume proprio la connotazione odorosa di pepe di pepe nero e di legno nel quale c'è stato il pepe per parecchio tempo quindi come quando andiamo ad annusare il fondo di un barattolo che ha contenuto nel corso degli anni le spezie in particolar modo il pepe e infatti questo è quello che sento tanto in questa composizione vi leggo le note petit grain e limone io sinceramente la parte agrumata l'ho sentita proprio i primi 5 secondi ma poi è subito volata via nel cuore rosa centifolia gessomino e gardenia fondo paciuli sandalo regno di cedro e musk questa è una rosa sicuramente come vi dicevo più contemporanea cioè la rosa negli ultimi anni l'abbiamo vista tanto abbinata al muschio tanto abbinata soprattutto al paciuli e si tratta di un accordo molto molto utilizzato nella profumeria contemporanea io ce la sento tanto la sento tanto questa rosa unita con il paciuli neanche in questo caso si tratta di una fragranza che io andrei ad acquistare ma penso che sia una fragranza che tra quelle che fino adesso ho proposto insieme a quelle ai fiori d'arancio che possa piacere molto al pubblico di oggi sì penso che sia molto in linea con i gusti attuali del pubblico medio diciamo se così possiamo dire andiamo avanti troviamo angeli di firenze che è la seconda fragranza che acquisterei perché questa mi piace veramente da morire e tra l'altro ha anche una bella storia questa fragranza è stata realizzata per celebrare il quarantesimo anniversario dell'alluvione di firenze che c'è stato nel 66 infatti questa fragranza risale al 2006 angeli di firenze sono state quelle persone che proveniente da tutta italia ed anche dai paesi europei sono partiti volontari per aiutare la città in questo disastro naturale e quindi non soltanto ad aiutare i cittadini di firenze ma anche ad aiutare a salvare a preservare il grandissimo inestimabile patrimonio artistico e culturale che la città custodisce al suo interno perché ovviamente capite bene che con un'alluvione è assolutamente probabile che qualcosa rischi di essere irribilebilmente danneggiato o addirittura andare perduto e quindi per celebrare e ringraziare questa diciamo cordata di umanità e di generosità è stata creata questa fragranza allora questa fragranza per me è una fragranza che veramente ispira tanto alla bontà perché è una fragranza che sa tanto di pulito io qui ci sento una fragranza veramente celestiale ecco infatti angeli di firenze penso che sia un ottimo modo insomma per definire la situazione nel senso che si tratta di persone ma che hanno avuto un comportamento in qualche modo angelico perché hanno fatto un atto di amore puro e di generosità pura mi piace molto la storia che sta dietro questo profumo allora in testa troviamo pesca e arancio nel cuore note marine gelsomino e ribes nero sul fondo sandalo vaniglia e mask le note marine io le sento sento le note marine non nel senso di note salate ma quanto di note ozonate quindi di note che richiamano proprio alla pulizia dell'aria alla freschezza dell'aria cioè proprio di un cielo spazzato via dalle nubi è una fragranza che userei sicuramente nel periodo primavera d'estate perché penso che abbia proprio un buon potere rinfrescante un buon potere proprio di sentirsi puliti ecco proprio di pulizia e questa pulizia penso che possa essere intesa anche in senso metaforico cioè quindi non soltanto la pulizia del corpo ma anche la pulizia dello spirito perché quando facciamo del bene in qualche modo ci sentiamo molto in pace con noi stessi e ci sentiamo a posto con noi stessi e quindi penso che abbia veramente una buona valenza metaforica questa fragranza non sento particolarmente le altre note nel senso di penso che queste note siano perfettamente unite e coniugate tra di loro ma non me ne emerge una in particolare sulle altre si sente sicuramente la parte floreale e si sente anche una parte dolce che è dettata dalla vaniglia e la morbidezza del legno di sandalo poi c'è da dire una cosa che è anche bello almeno io apprezzo molto i profumi nei quali non necessariamente si riescano a distinguere tutte le note nel senso che mi piace questa atmosfera che si ricrea perché è come se ci fosse questo vento che porta con sé tutti i sentori diciamo della primavera e quindi proprio porta con sé l'odore dei fiori ma un odore indistinto di fiori di nettare di pulito magari perché attraversa anche qualche indumento stesso ad asciugare e quindi si crea una sorta di atmosfera generale più che richiamare esattamente a questa o a quell'altra fragranza nel senso proprio di singola nota ripeto Angelini di Firenze mi ha molto molto colpito e anche questo rientra diciamo nella potenziale wish list di profumi da poter acquistare è veramente molto particolare questo anzi non vedo l'ora che venga più il caldo per poterlo indossare mancano tre fragranze tenete duro andiamo su melograno ecco su melograno smorsiamo un po' gli entusiasmi perché mi ha un po' vino deluso melograno è una fragranza che dal nome io mi aspettavo fatta completamente in un altro modo perché me l'aspettavo con una nota più acidula più fruttata proprio nel senso del chicco del melograno e soprattutto con questa sorta di componente un po' più croccante il chicco del melograno come sapete viene messo anche ad esempio nelle insalate viene messo nello yogurt e spesso viene proprio inserito come quella nota di croccantezza e diciamo di acidità che può conferire anche a un piatto e visto che il gusto e il fatto sono due sensi estremamente connessi il paragone alimentare mi viene molto molto semplice in questo caso no cioè non c'è nessuna parte acidula non c'è nessuna parte croccante anzi il profumo è un talcato bello polveroso e sinceramente riesce a darmi una sensazione quasi un po' sgradevole alla gola perché quando l'annuso mi si attacca proprio un po' qua cioè sento proprio come se la polvere mi scendessi un po' in gola non avrei mai associato un melograno a questa resolfattiva sinceramente quindi per questo mi ha molto spiazzato quindi non soltanto mi ha spiazzato nelle aspettative ma mi ha anche un po' deluso perché poi concretamente annusandolo non è che vi piaccia particolarmente è molto polveroso cioè veramente non è tanto talco è proprio polvere o non so che di antico ecco ho parlato prima dei due profumi di fresia e di rosa gardenia come due profumi che magari rimandavano ad una dimensione un po' più vecchia del modo di potersi in qualche modo profumare questo ha una dimensione proprio antica cioè vecchia nel senso quasi un po' più spregiativo mi permetto del termine quel retro proprio un po' stantiglio no mi ha mi ha veramente un po' turbato sinceramente non 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 mi sono trovata in linea con con questa profumazione viene definita addirittura un floreale speziato io delle spezie non ci sento assolutamente un'acca sento soltanto questi fiori vecchi fiori proprio non vecchi nel senso di marci ma fiori proprio secondo un gusto vecchio antico trapassato e tanta tanta polvere proprio come se avessimo veramente esagerato tanto con il talco e l'abbiamo respirato e adesso si è fermato un po' in gola in testa bergamotto aranciamaro spezie fresche cuore melograno rose langhi lang fondo fondo muschio di quercia labdano paciuli e mask la lettura della piramide in questo caso è stata assolutamente irrilevante perché io non non riesco a descrivere una forma di congruenza tra quello che ho letto e quello che sento perché sento esattamente quello che vi ho detto quindi non riuscirei neanche ad integrarlo in maniera differente non lo so sono rimasta un po' un po' spiazzata anche un po' delusa tabacco toscano tabacco toscano è la classica fragranza che non mi piace ma per essere la fragranza che non mi piace posso dire che mi piace e quindi grazie faccio pace con il cervello nel senso allora è la fragranza tipica come vi ho descritto anche nel set della Santissima Annunziata quella fragranza tipica da scaffale di legno pesantissimo scurissimo stanza un po' buia con il divano di pelle il mobiletto dei liquori il tabacco il sigaro appoggiato sul posacenere proprio il classico studio dei liquori della casa del professionista dell'intellettuale del giudice di queste figure un po' anche molto austere ecco in questo caso si tratta di un profumo molto serio cioè nel senso che riesco a percepire proprio un'aura di rispettabilità e di serietà in questa fragranza perché a differenza di quello del kit dell'annunziata che se non sbaglio si chiamava whisky qualcosa non ve lo ricordo più scusate ve lo scrivo quello aveva una nota dolciastra quella nota dolciastra tipica del whisky del rum quindi c'è insomma del liquore maltato questa fragranza invece è una fragranza molto secca è una fragranza molto secca che richiama esattamente nell'ordine tutte le cose che vi ho detto perché ci sento quella parte di tabacco sicuramente la parte del cuoio del divano la parte del del legno dello scaffale si sente tanto la parte del tabacco ma si sente proprio il tabacco bruciato c'è proprio il tabacco dopo la combustione proprio l'odore che può avere il posacenere con il sigaro fumato a metà appoggiato lì che è un odore che ovviamente è un po' repulsivo però immaginatelo associato a tutto il contesto quindi poi c'è anche la parte aromatica aromatica nel senso di aroma del liquore la parte legnosa appunto dei mobili la parte del divano di pelle e si tratta tutte ovviamente di oggetti che io mi immagino molto pregiati c'è lo stesso liquore che si trova all'interno di quelle bottiglie non le bottiglie del commercio insomma quelle che così come si comprano ma un liquore travasato nella bottiglia quelle di cristallo lavorate c'è insomma un contesto anche molto raffinato ed elegante e un contesto anche molto intellettuale e questo è un profumo che veramente non rientra nella mia estetica però mi piace mi piace lo trovo anche veramente molto serio molto rigoroso in qualche modo anche molto sexy cioè molto sensuale però di quella sensualità non sfacciata ma quella sensualità che diciamo viene innescata con il cervello con la cultura con il sapere con il comportamento serio e che quindi in qualche modo fa scattare anche questa forma di ammirazione ecco nei confronti della persona che la porta mi sto facendo un viaggio mentale incredibile però sono tutte queste le immagini che il profumo mi evoca quindi tabacco toscano eccoci qua bergamotto foglie di tabacco toscano cuoio ambra e betulla legno di cedro guaiaco sandalo maschio e vaniglia questa in differenza di quella di prima è una piramide estremamente calzante la betulla in particolar modo è una materia prima che ascoltata mi ha veramente ascoltata scusate sentita mi ha veramente turbato perché è odore esattamente di legno bruciato ma il legno veramente proprio dopo la combustione come a prendervi il tizzone in mano e mettervelo sotto il naso ecco la betulla in questo caso serve proprio a dare questa sfumatura di qualcosa di bruciato quindi della combustione e quindi in questo caso ovviamente è perfetta perché si parla del sigaro fumato si tratta ovviamente anche di quell'effetto cuoio del divano e ovviamente della legnosità degli ambienti quindi veramente questa è una piramide veramente in cui si riesce a capire il contenuto come viene presentato attraverso le parole e quello che poi ci risulta concretamente al nostro naso c'è un fondo in fondo vanigliato quindi il profumo non risulta mai dolciastro non risulta mai stucchevole ma c'è proprio quella dolcezza di fondo mi immagino quella dolcezza di fondo che potrebbe essere anche proprio quella della pelle umana cioè alla fine in tutto questo ambiente poi c'è anche l'odore della persona e l'odore dolce può essere quello della pelle umana in qualche modo pulita una pelle umana curata quindi questo profumo è veramente molto 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 interessante tabacco toscano se vi piace il genere è perfetto io per esempio odio e detesto a morte il tabacco vanigli di Tom Ford e tutto quello che intorno a lui è nato e si è sviluppato capisco che ha creato un trend veramente importante ma lo trovo veramente dolce stucchevole non ha niente di secco è veramente soltanto in qualche modo mieloso ha questa consistenza appiccicosa addosso quello e i suoi epigoni è la parte della moda tabacco dolce che veramente non mi piace questa declinazione qui del tabacco mi piace molto la trovo molto raffinata siamo arrivati alla fine stoici siete andati avanti fino in fondo per scoprire l'ultima fragranza che è Pupurri Pupurri come dice il nome è una fragranza che ho un po' di difficoltà a immaginare addosso una persona perché per me è una fragranza veramente da ambiente perché come dice il nome è veramente richiama tanto proprio al Pupurri e sembra veramente di vedere quella bull di vetro con dentro le foglie secche i rametti tipici proprio dei Pupurri che si trovano sulle tavole per profumare gli ambienti questo è un profumo estremamente aromatico in cui si sente tanto l'odore delle erbe aromatiche sento tantissimo un odore tipo alloro e anche un odore tipo timo con gli odori tipo da cucina però non nel senso di alimentare però di quelle erbe aromatiche che si usano anche per cucinare questo profumo parte molto estremamente con la componente aromatica però adesso già sta iniziando a evolversi poi sfocia in questa sorta di un universo di pelle detersa di pelle pulita maschile dopo il rituale della rasatura però mi immagino la rasatura non fatta da un ragazzo con la sua Gillette Mac 3 no la rasatura fatta nel salone del barbiere quindi con il rasoio del barbiere con tutte le boccettine e quell'odore buono raffinato quindi un salone di barbiere anche di un certo livello e magari appartenente a una tradizione non proprio attuale ma magari il salone del barbiere degli anni 60 degli anni 70 questo è un profumo che poi diventa veramente tanto rassicurante tanto maschio nel senso più bello del termine sappiamo che la classificazione di genere in profumeria ultimamente viene sempre più demonizzata però io sono del parere che esista esiste perché ci richiama delle immagini che sono legati comunque anche ad una suddivisione sessuale perché è chiaro ognuno si può mettere quello che vuole lo diciamo sempre però non vorrei neanche essere in maniera sterile troppo politically correct per me certe immagini sono dell'universo maschile e alcune immagini sono dell'universo femminile poi che io decida di impossessarmi di queste immagini maschili questo è un altro discorso e nessuno me lo vieta però è innegabile che ci sia un'immagine più da maschio o più da femmina tabacco toscano è secondo me un profumo comunque o non vuoi che richiama ad un immaginario maschile così come anche pupurri perché sento proprio l'odore della pelle rasata riesco a sentire la consistenza della pelle appena rasata di un uomo sul viso ed emerge questa quest'odore veramente di estrema pulizia quest'odore tra un mix tra talco l'odore del pennello che utilizza il barbiere lozione post rasatura c'è proprio una specifica immagine di un universo tutto maschile ovviamente di un maschio raffinato di un maschio adulto estremamente rassicurante estremamente proprio familiare in qualche modo anche se non è un'immagine della mia famiglia però è un po' un'immagine di stereotipo però di maschio rassicurante con il suo gilet di filo di scozia la camicia la giacca un po' da gentleman un po' da lord inglese è molto molto buono vi leggo le note non a caso comunque di questa fragranza fanno anche la profumazione per ambiente e non stento a crederlo sinceramente anche con dei sacchetti di seta che contengono appunto il pulpurrino è meravigliosa eccoci qua bergamotto arancia amaro e alloro alloro lo sentivo tantissimo infatti in apertura come vi dicevo lavanda timo chiodi di garofano e rosmarino paciuli legno di cedro e balsamo del perù eccoci adesso sento tanto anche i chiodi di garofano i chiodi di garofano danno questa componente quasi tra la vaniglia e la cannella le composizioni buonissime quindi diciamo che in apertura questo profumo penso aiuto forse era meglio in uno spray per ridurare l'ambiente seppur di alto livello adesso sì è assolutamente più portabile è tranquillamente portabile da una donna però per me questa è veramente la fragranza del maschio la fragranza dell'uomo non il maschio sexy il maschio rude il maschio figo ma quel maschio che sta lì ma c'è è veramente molto confortante da questo senso veramente di grande pulizia di grande ordine di grande eleganza quindi le due fragranze maschili sono entrambe due fragranze molto eleganti seppur declinate una fragranza una eleganza pronto declinate in modo diverso ma entrambe sono molto eleganti e molto raffinate quindi applauso sono veramente entusiasta e quindi niente mi dispiace per la lunghezza del video ma mi piace descrivere bene le fragranze del discovery set perché altrimenti dove sta sto discovery è inutile leggere soltanto le note olfattive e anzi sulla piramide olfattiva intendo poi tornare in un video magari più breve per poter appunto parlare di che cos'è la piramide olfattiva come va letta come va interpretata e quanto peso in qualche modo bisogna dare alla piramide olfattiva non è questo il momento altrimenti facciamo Natale 2022 ovviamente e quindi niente spero che vi sia piaciuto spero che vi abbia aiutato a comprendere le fragranze a farvi un'idea di queste fragranze perché se magari avete modo di andare in negozio ad annusarle avete già le idee chiare o se volete azzardare addirittura un blind buy alcune di esse penso che siano delle fragranze che si possono prestare comunque a un blind buy non le trovo delle fragranze veramente difficili a parte melograno sono delle fragranze che secondo me mantengono molto la promessa del loro nome e di quello che comunque possiamo leggere in piramide vi posso aver descritto io quindi ci vedremo presto con un altro discovery set intanto vi auguro una buona giornata e vi aspetto sul canale ciao ciao